E' morto il nonno di Greta Thunberg, si chiamava Olof Thunberg, è stata lei la famosa attivista svedese ad annunciarlo su Instagram. Ieri mio nonno Olof è morto, stava per coppire 95 anni di età. Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto, ci manca terribilmente queste le parole di Greta. La notizia della scomparsa del nonno arriva nel giorno dell'incontro all'università di Oxford tra Greta e Malala Yousafai, adolescente pakistana che i talebani cercarono di far fuori, insignita del Nobel per la pace. Una vicenda triste, angosciante, una notizia che sconvolge la amata nipotina di Olof, ossia Greta, la quale ha deciso di informare il suo pubblico della morte dell'amato nonno. Olof Thunberg, 95 anni di età, beato lui che ci è arrivato. Il video termina qua, un saluto caro a voi utenti di YouTube, Olof Thunberg riposa in pace, amen.